un drago sacchetto della magnesite allora steppen sei pronto per la tua prima alpinata guarda dopo grandi e grandi approach verso seus mi dedicherò ad agosto a grandi alpinate insieme al mio socio marco siamo qui alla grave ci stiamo preparando per la grande traversetta la mesh pompati Dopo una piccola sezione di frisolo Io e il Pongiaz ci siamo legati e come potete vedere alle mie spalle abbiamo una versione del Pongi versione alpinismo Questa qui è un anteprima mondiale Tutto l'indispensabile per alpinare il più possibile La sportiva, tutto davvero imalaista Ecco il Refugio Promontoir dove passeremo la notte Stellato Michelin Promontoir Cena a base di champagne e caviale No Pongi? Io non vedo l'ora Dicono che è il migliore in assoluto Cioè l'unico che lo batte è un ristorante ad alba 15 stelle Michelin Questa è una solo 14 ma alta a quota E siamo pronti Andiamo solo dietro di nuovo Sono le ore 6 e mezza E siamo al ghiacciaio Ritmo sostenuto Dalla cordata Eidalin Filippazzi Guardate che alba ragazzi Grande step Abbiamo appena finito le calate Siamo sul ghiacciaio Sono le 11.10 Che dici Pongi? Beh devo dire che come prima alpinata Guarda mi piace Mi diverto Ho cercato di danzare su questi ramponi Come di solito danzo Nelle placche del Verdun Ma non ancora Non è ancora mio Stesso ci andrà ancora un'oretta Forse arriverà a Lego Come dei misti E poi da Lego c'è da divertirsi Hai un talento per l'autostop Assolutamente no Però la medicina chiama E quindi dobbiamo assolutamente trovare un autostop Perché è una fame mortale Ciao Ciao Grazie Ciao